itinerario esperienziale guardateci è il cuore della proposta della carovana pedagogica un itinerario che in un'ora e mezza di attività con bambini bambine ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni prova a ragionare con loro del concetto di stereotipo affrontandolo da molti punti di vista c'è lo sguardo scientifico cos'è lo stereotipo perché è uno strumento del nostro cervello c'è il coinvolgimento ludico che cattura l'attenzione e veicola dei messaggi complessi in modo leggero e divertente c'è l'aspetto dello stupore quando i bambini e i ragazzi si trovano ad ascoltare degli adulti che riportano frasi stereotipate e poi c'è il momento più importante quello finale dove si restituisce ai ragazzi la possibilità di dire quello che pensano di esprimersi di restituire le loro riflessioni sia in forma scritta che in forma verbale i laboratori che avete offerto ai ragazzi erano stimolanti e poi il fatto che siano stati appunto delle attività pensate in maniera laboratoriale corale questa è una cosa che ai ragazzi piace attraverso il gioco il bambino può apprendere tante cose prima di tutto i limiti i suoi limiti seconda cosa le loro potenzialità e soprattutto lo fanno in uno spazio diverso dalla scuola dove comunque ci sono tanti limiti preimpostati le persone sono speciali quando si incontrano le persone possono dare qualcosa di diverso di quello che pensa ma questo all'interno del progetto rete chat l'ho trovato moltissimo il fatto di incontrando le persone si incontrano le famiglie incontrando le famiglie si incontrano gli amici delle famiglie si incontrano altri ragazzi si incontrano situazioni diverse la cosa più difficile o comunque più complessa è quella di arrivare al cuore e all'animo di un bambino questa vostra capacità arriva in maniera molto facile e spiazza in passato mi sono ritrovato a parlare di stereotipi di pregiudizi i miei ragazzi li conosco da molto tempo e la loro partecipazione il loro entusiasmo e anche il grado di comprensione è dovuto solo ed esclusivamente a questa vostra capacità di coinvolgimento e soprattutto espressione di un qualsiasi tema indifferenemente dalla complessità i bambini vanno ascoltati soprattutto e se non ascoltiamo loro e non scendiamo un po guardiamo coi loro occhi diciamo che nulla potrà mai cambiare e quando facciamo parlare i bambini facciamo sempre bene diciamo la verità i ragazzi che impareranno con voi saranno super fortunati si divertiranno molto saranno accolti benissimo e si divertiranno impareranno tante cose belle ci avete aiutato a guardare oltre cosa intendo visto proprio nei bambini a parte un vivo interesse ma proprio l'interesse verso questa tematica tanto è vero una volta rientrati poi in classe non abbiamo ripreso la lezione tradizionale perché mi hanno sommersa di domande sull'attività svolta e poi sono proprio abbiamo creato un momento di discussione dove loro hanno poi espresso la loro opinione sia su pregiudizi e stereotipi proprio in generale su come noi adulti giudichiamo i bambini devo dire la verità è stato anche d'aiuto a me proprio perché a volte mi rendo conto che anche io nel gestire la classe magari mando un messaggio sbagliato ecco etichetto un po' alcune situazioni che dovrebbero essere scardinate e analizzate diversamente ho osservato le diverse classi che si sono affacciate a questo progetto si sentivano ascoltati semplicemente si sentivano visti in questi giorni sto assistendo a qualcosa di davvero speciale che mi fa brillare gli occhi e mi riaccende una speranza grazie a tutti Grazie a tutti